Questo è un fatto nuovo, non è mai successo che un ente pubblico come il nostro decidesse di incontrare per presentare dei piani, delle idee, dei progetti esecutivi e l'abbiamo fatto perché stiamo dicendo, stiamo lanciando questo messaggio anche alle imprese ferraresi ma non solo, organizzatevi, le risorse ci sono dipende da voi ovviamente la capacità di riuscire a partecipare poi ai bandi che noi pubblicheremo, ma lo facciamo con largo anticipo, non abbiamo aspettato la pubblicazione dei bandi, lo facciamo perché abbiamo capacità di programmazione soprattutto perché i progetti li facciamo in casa grazie ad un ufficio tecnico straordinario fatto di ragazzi e ragazze davvero con grande passione che hanno a cuore la cura del nostro territorio, quindi noi siamo a disposizione, quindi l'auspicio ovviamente che le imprese si organizzino, costituiscano delle reti di imprese, possono essere delle associazioni temporanee di imprese, quindi l'auspicio ovviamente che le imprese si organizzino, costituiscano delle reti di imprese, possono essere delle associazioni temporanee di imprese e partecipino evidentemente ai nostri bandi, questo è quello che noi oggi abbiamo lanciato come messaggio, abbiamo visto molto interesse. Interessante questo nuovo incontro di oggi perché è un'attenzione al territorio basiliare perché nel momento che una città ha un lavoro e quel lavoro da reddito alle stesse aziende che operano sul territorio la ricchezza resta nel territorio, ma portare un'impresa, un lavoro da un'azienda che è fuori e si porta fuori quel reddito resta un'opera ma non resta la capacità economica e quindi è interessante proponendo alla nostra associazione di pensare a un'associazione di imprese momentanea dedicate a un progetto, tante teste per formare una unica capace di rendere una risposta a questa richiesta. Oggi tracciamo il fatto di aver raggiunto un risultato importante perché il risultato ci consente di avere gran parte di questi progetti, circa 80 milioni di euro di opere, finanziati, quindi oggi ci rivolgiamo al mondo dell'impresa, al mondo delle imprese, del mondo produttivo per dire noi la nostra parte l'abbiamo fatta, è chiaro che per vivere un secondo tempo e chiudere in bellezza quelli che sono questi innumerevoli cantieri che dovremmo comunque affrontare, abbiamo bisogno delle imprese che li realizzino. Io sostanzialmente vedo più che altro luci perché è importante per noi del territorio conoscere magari con un po' di anticipo anche finanziamenti che arrivano da regione piuttosto che Europa e vedremo di farne tesoro e di proporre un qualche progetto anche innovativo. Come si fa oggi a fare impresa? Beh in Italia è molto difficile, come era difficile ieri, però come si fa con l'innovazione? Grazie. 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 Grazie.